Venerdì 23 dicembre, alle 18, l'assessorato al turismo e grandi eventi del Comune di Pescara presenta Pescara Mapping, il festival del videomapping organizzato da Share City con la direzione artistica di Silvia Moretta. Dopo il successo dello scorso anno, torna a Pescara lo spettacolo di luci che trasforma Palazzo Arlecchino in un display virtuale e animato. Pescara Mapping è a Piazza Salotto dal 23 dicembre al 2 gennaio, tutti i giorni dalle 18 alle 21. Partecipa anche tu all'evento dell'anno e vota il tuo mapping preferito. Scopri come fare sulla fanpage Pescara Mapping.